Ciao a tutti, oggi andiamo a Caria, da Italia all'esterno dell'Europa. Abbiamo un prodotto speciale per vedere, per mostrare. Il rosso è un frutto di rosso. All'interno abbiamo le sceglie di rosso. Abbiamo circa 10-15 sceglie dentro. Questo è un prodotto molto speciale. Ci sono diverse varietà. Abbiamo la rosa damascena, che è molto importante per l'olio. Abbiamo la rosa moschiata, la rosa rubiginosa, la rosa canina. Abbiamo la rosa damascena e la rosa canina. Abbiamo la rosa. Abbiamo la rosa. Abbiamo la rosa. Abbiamo la rosa. Grazie a tutti. La piada è taglia di acido di Saturato Perfati zero, Trolletic acid senza fataisi. Abbiamo un po toni di freddo, 4 toni di sceglie e 2% di olio quando è possibile, a volte è anche meno. Quindi il colo può essere diverso, la percentuale di vitamina A che si mixa con il polpo e il sceglie. Questo prodotto, questo freddo, è appena alla famiglia di rosacea, che è la stessa famiglia di olio, è organica, a volte è un'attività di sceglie, che si colla in montagna, e, è molto anti-aging olio, il beneficio è un enorme, è aiutato a creare il collagene, per la pelle di matto, per la vincolazione, per la pelle di sceglie, per la pelle di sceglie, è molto interessante. Grazie a tutti.